un nuovo pacco da azzurre film e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi andiamo ad aprire un nuovo pacchetto che arriva direttamente dal magazzino italiano di azzurre film mi hanno mandato un loro prodotto nuovo hanno avviato la produzione da qualche giorno forse una settimana di una nuova tipologia di filamento è il silk il silk bellissimo l'ho visto in video in foto dà un bel effetto alle stampe ai pezzi degli stampati vediamo quali colori mi hanno mandato ok ok ragazzi sono mini bobbine io pensavo fossero a volte tipo a invece no ragazzi oh mamma mia oh 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 ok e allora ragazzi sono uno sono due e sono tre mini bobbine di filamento e il silk lime da 1,75 ovviamente, 300 grammi a confezione. Questo è il bianco e questo è il pink, rosa. Farò qualche prova per vedere come esce. Ti metto intanto qui qualche foto presa direttamente dalla pagina di Azzurro Film. Sono, ragazzi, filamenti normalissimi. Temperature di estrusione 220-230 gradi, il piatto 80 gradi, 1,75 il diametro del filo. Iniziamo con il pink. Ha fatto anche... Tanto sono messe sotto vuoto. Ora, ragazzi, il mio problema sai qual è? Stavo valutando anche questo. Devo trovare una soluzione per lo stoccaggio di tutti questi filamenti, perché nello specifico mi sono ritrovato ad avere tantissimi filamenti iniziati e non voglio andare a farli perdere. Ogni loro confezione, come vedi, è molto, ma molto professionale. Mettono il gel della silica per andare a prendere l'umidità, bella sotto vuoto, il sacchettino è pure bello grosso. Conosco questa azienda da circa due mesi. Ho fatto 5-6 ordini e loro, altrettanti, mi hanno mandato come campioni. E ora, ragazzi, ti voglio far vedere, se riesco, attenzione, se riesco, ti voglio far vedere nello specifico questo filamento, che è bellissimo. Ha un colore proprio brillantinato, bellissimo. È un PLA rinforzato, si può comunque stampare con qualsiasi stampante, qualsiasi modello di stampante. Non ha problemi meccanici né di problemi di estrusione, ecco. È molto lineare nell'estrusione. Le temperature, abbiamo detto, che vanno da 220 a 230 per quanto riguarda l'estrusore. È il piatto 80 gradi. L'unica cosa che differenzia dal PLA puro è appunto anche questo, il piatto, perché il PLA anche a 60 gradi lo puoi stampare. Questo necessita un pochino più alta di temperatura sia dell'estrusore che del piatto. Poi la caratteristica principale, ragazzi, è la lucentezza. È l'effetto bellissimo della finitura che brilla, è davvero bello. È già da così e si vede che non è un normale filamento. Poi da stampato in un pezzo, in un basetto, in un modellino stampato con questo è pronto, è finito. Non devi fare post-produzione, non devi verniciarlo, non devi dipingerlo. Questo già è pronto, è finito. Il prezzo ovviamente per essere una tipologia di filamento particolare, speciale, è un tantino più alta del PLA standard. Però ragazzi, questo ti risparmia tutto il lavoro successivo, perché se la tua stampante stampa bene, ti basta solo stampare ed è pronto. Lo vuoi prendere, vendere o prendere e regalare. Non lo devi carteggiare, non lo devi passare il primer per plastica, non devi verniciarlo, non devi passare l'eventuale lucido. Questi ragazzi, se stampati bene, se fatti stampare bene, ti danno un prodotto pronto e fatto. Perciò quello che paghi in più, che poi sono bazzecole, lo risparmi in lavoro, in materia prima, attrezzatura, dopo avere il pezzo pronto e fatto. Vendono questa misura che è 300 grammi o anche quella da un chilo. Però per iniziare, se vuoi provarlo, ti consiglio di andare su questi, anche perché sono bellissimi. Mi piacciono tantissimo piccoli, eccoli qua. Il foro è standard, come delle bobine grandi, perciò va senza problemi nel supporto della tua stampante. E come abbiamo detto, si adattano tutte le stampanti. Bene ragazzi, allora, dopo tre giorni, 48 ore di stampa per stampare lei. Bellissima stampa di un vaso particolarissimo. Temperatura di stampa abbiamo detto 220 gradi, temperatura del piatto 80 gradi. e ho fatto questo col pink, che è un draghetto, questo col bianco e anche questo col bianco. Il limo non ho avuto tempo, non ho avuto modo per provarlo, però ragazzi è sempre un bel colore, gangiante, brillantissimo, come già ti ho fatto vedere. Però io voglio farti concentrare su questa stampa. Guarda che bella, guarda che precisione e guarda che finitura di stampa. Qui non c'è bisogno di carteggiare, non c'è bisogno di passare con una bomboletta spray per la verniciatura, con l'aerografo. Con questa finitura che dà questo filamento, effettivamente è bella, brillante, elegantissima e ti sei risparmiato tanti passaggi. Allora da 1 a 10 do 9. 10 no perché il prezzo è un tantino oltre lo standard del PLA. Però tutto sommato se da qui a qualche mese i prezzi scendono. Ragazzi questo è un filamento bellissimo. Resistente, guarda che bello, particolare in tutte le lavorazioni. E qua abbiamo il pink, anche questo brillante, luccicante, bello anche questo. Ragazzi per questo video è tutto. Se vuoi iscriviti al canale, ti lascio tutti i riferimenti ad Azzurre Film dove troverai questi e tanti altri filamenti perché ovviamente hanno PLA, hanno ABS, hanno decine e decine di tipi diversi come anche i colori. Grazie a tutti. Facciami un commento, fammi sapere se il mio vaso gigante ti piace. Al prossimo video.